Tecnologia, intelligenza artificiale, il primo forum delle relazioni industriali organizzato da Assolombarda ha voluto mettere al centro la partecipazione diretta dei lavoratori ai processi organizzativi delle imprese come strumento per affrontare una incredibile fase di cambiamento. Dai sindacati c'è apertura a iniziative di innovazione condivisa ma sempre con una certa cautela. L'intelligenza artificiale non sia il secondo datore di lavoro del lavoratore ma che quando il lavoratore è chiamato a delle sfide il datore di lavoro attraverso le nostre valutazioni, i nostri accordi può supportare, può affrontare queste sfide. E facciamo bene ad aver paura perché queste transizioni vanno accompagnate e vanno accompagnate con il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori per non lasciare i lavoratori da soli a dover far fronte ad un cambio di paradigma. Noi abbiamo una situazione oggi del mondo del lavoro nel nostro paese che dobbiamo fare i conti con la struttura delle aziende. In effetti dove le aziende sono strutturate la chiave della partecipazione trova spunti differenziati, a esempio progetti di formazione condivisa. Formazione, tanta formazione. Noi abbiamo fatto dei progetti non solo come CISL ma come CGL, CISL e Will e anche insieme a altre organizzazioni stiamo facendo degli esperimenti in alcune aziende. Uno di questi è Trenord. Un progetto di partecipazione diretta che verrà portato anche in ATM con una fortissima condivisione del percorso formativo. Un corso di formazione dove ci sono dentro non solo CGL e CISL e Will ma tutte le RSU. insieme alla prima linea delle relazioni industriali e aziendali si trovano insieme, fanno classi insieme e studiano le nuove relazioni industriali digitalizzanti. O ancora altri progetti di partecipazione che hanno dato già dei risultati importanti. Con un gruppo di circa 40 aziende abbiamo lanciato dei progetti di partecipazione all'epoca sperimentali oggi ben consolidati. Nella transizione digitale la partecipazione diventa un elemento fondamentale. Firmato dalle organizzazioni FIM, FIOM e WILLM a livello nazionale che prevedeva le modalità di applicazione di un investimento di riqualificazione delle fabbriche di digitalizzazione, di innovazione tecnologica decisa dalla direzione strategica. Un investimento di grande importanza. Nel cambiare banalmente un software in azienda che può essere il piano base della transizione digitale, se non abbiamo un coinvolgimento dei lavoratori in questo processo difficilmente l'organizzazione riesce ad ottenere i risultati sperati. Eppure ci sono alcune questioni irrisolte. Il fatto che il 90% delle imprese siano di nuovi dipendenti al massimo, il fatto che esiste uno strumento come la contrattazione di secondo livello usato solo dal 30% delle imprese in Lombardia, mentre è stato pensato come un meccanismo consolidato di relazioni e partecipazione. E allora significa che se mettiamo a fattor comune l'esigenza dei lavoratori in una situazione come quella da Lombardia, le sfide che devono affrontare le aziende in un processo di innovazione tecnologica, allora nell'ambito di una contrattazione vuol dire che costruiamo anche delle regole certe che non diventi una paura ma diventi un'opportunità. Oggi l'intelligenza artificiale, se all'intelligenza artificiale non si fanno le giuste domande, l'intelligenza artificiale dà le risposte sbagliate. Quindi abbiamo bisogno di utilizzare la professionalità e l'intelligenza dei lavoratori assieme alla formazione affinché l'intelligenza artificiale diventi un'opportunità. Tutto il sistema delle relazioni industriali può essere anche affrontata con quella sì contrattazione di secondo livello ma anche settoriale senza avere paura di dire che per alcuni settori può essere affrontata anche quella di tipo territoriale o di filiera e dentro questo contenitore vanno inserite tutte le sfide.